Salve ragazzi, vorrei chiedervi scusa anche se ovviamente non sono tenuto a farlo perché comunque sto passando un periodo abbastanza impegnativo che è quello dell'esame e per la mancanza di video. Non dovrei chiedere scusa semplicemente per il fatto che non sono obbligato a fare video ed è normale che un impegno come quello della maturità mi occupi veramente tanto tempo, però come sapete io ci tengo a portarvi sempre qualcosa anche se sono cose piccole come questa, che non è altro che una compilation dei momenti più divertenti che passo in live sul mio canale Twitch nel caso voleste seguirmi tanto faccio live praticamente tutti i giorni, è in descrizione. E vorrei anche chiedervi soprattutto visto che succede spesso non intasatemi la direct di Instagram per sapere come va l'esame, quando ho questo, quando ho quello, come è andata, cosa hai fatto. Ragazzi tutti gli aggiornamenti li faccio tramite le storie o le foto, quindi se non pubblico niente semplicemente perché non ho aggiornamenti, quando li avrò ve li farò sapere, ma non spammatemi nelle direct come sta andando perché me lo chiedete in decine e centinaia di persone e non riesco a rispondere. Detto questo ci tengo a concludere l'intro dicendovi che ho dei bei video in mente e uno di questi, penso il più importante, sarà sicuramente il video in cui vi parlo di tutto il mio esame di maturità appena lo finisco, dalla prima prova fino all'orale, spiegarvi come ho svolto l'esame e cosa è successo, come ho fatto le prove scritte, come ho fatto l'orale, cosa ho approvato e magari anche la tesina già che ci siamo. Quindi aspettatevi questo video che sarà molto importante e fidatevi molto bello. E come al solito ragazzi vi chiedo di lasciare un like e vediamo a quanti riusciamo ad arrivare. Io vi saluto, godetevi il video. Alex, sto arrivando. Qua, qua, Luca. Dove sei? Qua. Eh, io sono stupido. L'autismo regna sopra. Dove vai? Dico, ma dove cazzo sei? Sono nell'angolo. Mi stavano sparando. E che cazzo faccio? Vado in mezzo alla strada. È ovvio che mi nascondo. Io pensavo fossi dentro, no? Allora, quelli che ultimamente seguo abbastanza, Cane Lupo, è un must. Perché ti giochi a League of Legends. Se giochi a League of Legends e non segui Cane Lupo, devi andarti a confessare perché ti cadono i fulmini di Allah. Io sono una padella, frate. Provato, mi ha sparato tutti i colpi che aveva. Penso. Ho sparato un'altra a sinistra? No. Grazie a tutti i miei video motivazionali. Grazie a tutti i miei video motivazionali. Già che fa il sub. Mettiamo i sottotitoli per aiutarci. Italiano. Già che ha riconosciuto che è italiano, non è male. Studio associato. Non funzionino. Ben gialli crediti. Occhi che mi chiamo felpe. Perché ci sono dei miei... Che dei miei preferiti sono i genitori di niente. Perché i soldi dei segreti. Perché ci sono dei giorni fertili. Sono ben gialli feriti. Che bello non fare un cazzo. Io non sto facendo un cazzo. Io sono qua. Cioè questa ragazza è la mia live. Ditemi se sto facendo qualcosa. Sto facendo un cazzo. E voi mi guardate lo stesso. Quella è la cosa divertente. Che voi mi guardate lo stesso. Anche se non faccio un cazzo. Ottimo acquisto. Una cappa, proprio lei. Ottimi acquisti. Io c'ho l'M4 e il pompa. Una palestra forse da cappa. Arrivederci figlio di puttana. Via! Quando si va in casa dove ci sono le persone si chiede il permesso. Voi non la vedete. Fuori! 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 Una cosa così? Non lo so suonare anch'io l'armonica, però ce l'ho sul tavolo Che cazzo detto? Che cazzo detto? Per un mondo più pulito torna in vita zio Benito E che cavolo sarebbe? Aridaglie, si chiama Friedrich No, non ho fatto Oh mio Dio Grazie a tutti Oh mio Dio Cosa è questo? Cosa sta succedendo? Ascolta Porca puttana Già spacco i tifani con sta musica di merda Se ti metti anche ad urlare Mannaggia te Grazie mille per la seguida Come si fa a fare soldi con sta merda? Qua io non capisco Prossima volta Faccio la ride di sfrusciata le palle contro il loieti e fatta Anzi ragazzi la faccio adesso vai Prossimo sub Stacco la webcam e inizio a sfrusciarmi il cazzo sul microfono Va bene, faccio la stessa cosa Questa è la quarta birra Sandra Minchia We've got to be near you Every night Every day I could be happy Any other way Ragazzi, in chat, how many beers It must be love, love, love Alvira Oh, oh oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Non ho mai chiesto Che no come stai, ai 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 Che no? Come va? Come va? Come va? Ho no che abbia bene mai Mai no mai no mai questo è per solito 30 I cheers cioè voi guardate tipo non so quanti secondi in pubblicità e vi arrivano dei cheers e potete donargli gli streamer Ti adoro grazie anche io mi adoro Che passeggiata fiera lui c'è la nonna in bavag... E noi stavamo scopando dentro alzio lo sgabuzzino Ma hanno beccato i nonni che stavano facendo cose dentro lo sgabuzzino Ma poi vi prego la faccia del nonno guardate quanto è soddisfatto del suo lavoro Non c'è un blog Mmm Ma che versi danno scusa? WTF Oh ma ce l'hanno tutti con me sono in 3 In 4 3 kill Ho fatto 4 kill mate 4 kill ho fatto E' un uccello forse perchè animali tipo cani e cazzo non l'ho mai avuto Ha detto l'animale E' un uccello E' un uccello Cazzo non fa figli Ma fa... Figli With the i Ma sicuro piace la tua figlia Sicura un po' che stai in vista col trap Con la ringhacciata C'è quella a metà Già la mia vita Ho parlato dei miei contenuti fra Non hai l'età Una mano in casa piuttosto che le solito mamma No no Tu non hai mai il tutto Come and get it